La professoressa Bartolomucci, Giardini di Pietre, il cimitero monumentale dell'Aquila, è un libro ideato e curato da lei e dalla professoressa Ciranna del Licea. Perché anzitutto questo studio accademico sul cimitero? Perché abbiamo pensato due anni fa che fosse un luogo che meritava attenzioni e cure, nel senso che non è solo un cimitero, è in realtà un parco urbano, è un luogo che ha delle potenzialità straordinarie, che in questo momento, per le condizioni in cui si trova, vengono percepite con molta difficoltà. Anche qui dove siamo, questa piazza che è configurata da questa chiesa bellissima, che non è solo chiesa, è un monastero di fatto quasi inutilizzato, potrebbe fornire invece delle potenzialità importanti. Viene percepita come un piazzale, quasi come una piazza del mercato, vediamo le bancarelle che vendono i fiori, potrebbero essere collocate in una maniera più opportuna, avere anche forse un aspetto più curato. Vediamo che appunto è una piazza che è un fondale scenico inquadrata da un viale di cipressi alberati, ma in realtà è percepita quasi come un piazzale, un parcheggio. Se entriamo dentro, vediamo tante altre caratteristiche di questo luogo che ha una storia importante. Nel rileggerla sono venute fuori delle considerazioni molto interessanti sul fatto che il cimitero all'inizio è stato osteggiato per molto tempo, perché fu imposto per legge un po' dovunque, e poi in realtà col tempo, quasi nel secolo successivo, è stato realizzato come occasione di autorappresentarsi, di costruire delle architetture singolari molto interessanti. L'idea è nata proprio da lì. Due anni fa mi interrogavo, era il primo anno che insegnavo il restauro qui all'Aquila, e mi chiedevo dove far lavorare gli studenti. Non è facile in una città terremotata trovare luoghi per farli lavorare in sicurezza, e d'altra parte è necessario un contatto diretto con gli edifici, non si possono solo guardare dalle fotografie e dai disegni. E quindi ho pensato a questo luogo che consentiva di lavorare tutto sommato, evitando i contesti più dissestati, ma di lavorare in sicurezza. Ho riflettuto all'inizio, pensavo che per il senso di lutto che stiamo ancora vivendo, mi sono interrogata, pensavo che non fosse forse il caso. Ma in realtà, siccome il restauro inizia proprio dal riconoscimento di un valore, di un significato speciale, ho pensato che questo era proprio il luogo più giusto per farli lavorare. C'è un altro tema concettuale su cui mi interessava farli riflettere, ed è il senso del tempo. Il cimitero ci spinge, in ogni caso, a pensare non soltanto al passato, ma anche al futuro. Quindi questa riflessione sul tempo, che non è irreversibile, ho pensato che fosse opportuna e necessaria in questa città in cui oggi, in particolare, si guarda al restauro come un ritorno all'antico splendore. Il restauro non è questo. Il restauro significa accorgersi, riconoscere un significato speciale e volerlo consegnare al futuro. Quindi lavorare su qualcosa che viene dal passato, ma in realtà guardare al futuro. E questo è un concetto a cui tenevo particolarmente e ho pensato che questo luogo potesse esprimerlo bene. Professoressa, siamo proprio nel tratto iniziale. Quali sono le peculiarità di questo luogo e qual è anche un po' la sua storia? Il cimitero dell'Aquila ha avuto una storia molto controversa, nel senso che da quando la legge impose la formazione dei cimiteri in tutte le città, qui particolarmente ci furono molte ostilità e molte difficoltà di realizzazione. Quindi molti cambi di idea tra il sito dove realizzarlo, i progetti che si susseguirono e molte ostilità per chi non aveva interesse a realizzarlo. Tanto che si disse che non l'avrebbe utilizzato nessuno perché ogni famiglia aveva la possibilità di essere seppelliti nelle chiese inutilizzate. Qui ci troviamo nella parte storica del cimitero, la parte iniziale, ma in realtà questo cimitero ha la caratteristica di non avere una parte storica ben definita. Questo è il tratto iniziale dove sono sorte le prime cappelle, ma in realtà il cimitero era molto ampio e quindi troviamo delle cappelle storiche anche dall'altra parte della valle e quello ci fa capire che quello era il primo confine, oltre il quale poi il cimitero moderno si è espanso ed è oggi ben riconoscibile. Tra l'altro è riconoscibile per il fatto che la parte nuova non ha vegetazione, mentre invece questa parte storica ha un rapporto con il verde che si vede anche da fuori che la caratterizza in maniera molto gradevole. Quando noi entriamo qui all'improvviso ci troviamo immersi in un oasi di silenzio, non sentiamo più il traffico, sentiamo le sonorità della natura e possiamo vedere, ci siamo accorti anche attraverso il degrado, che l'aria all'interno di questo spazio è particolarmente pura. Evidentemente questi alberi fanno da filtro ed è depurata dalle impurità e questo ce ne accorgiamo dal degrado sui manufatti architettonici, che è un degrado essenzialmente biologico, che si verifica proprio in ambienti non inquinati, lontano e che invece non si realizza lì dove c'è traffico e ci sono sostanze inquinanti. In questo primo tratto vediamo un susseguirsi di molte architetture interessanti che raccontano anche un po' la storia di questa costruzione, che è andata avanti nella seconda metà dell'Ottocento e poi nei primi decenni del Novecento. Questi periodi diversi raccontano modi diversi di fare architettura, dalle sperimentazioni eclettiche di linguaggi ottocenteschi, che prendevano un po' elementi simbolici e li riproponevano in architetture composite, alle sperimentazioni dei primi decenni del Novecento. E quindi le architetture che anticipano il razionalismo, le architetture del ventennio, che hanno una loro qualità. Ve ne faccio vedere alcune. Questa di fronte alla quale ci troviamo, per esempio, è molto interessante perché in qualche modo io la leggo come una celebrazione di un'assenza, cioè in un viale che presenta una successione di cappelle, all'improvviso c'è un vuoto. La cappella in realtà sta sotto, quello che vediamo qui è soltanto una memoria, una statua, un'apertura verso il paesaggio. E quindi in qualche modo questa è un'architettura dell'assenza, che è un tema esemplare in un luogo come questo. Vediamo poi altri manufatti. Qui ne vediamo una molto interessante del ventennio, che ha una sua collocazione all'incrocio di una scalinata, quindi ha la particolarità di avere due fronti, un fronte, un prospetto su questo viale, e un prospetto dalla parte bassa. Se andiamo avanti c'è un'altra piccola cappellina che io ho apprezzato particolarmente e di cui vi racconto brevemente i motivi di interesse che presenta. Tra le tante cappelle interessanti che possiamo vedere, questa ha una sua singolarità. È realizzata con materiali non nobili, nel senso che anche quello che sembra pietra in realtà è muratura intonacata. Questo uso di materiali poveri simulando materiali più nobili è una caratteristica di architetture molto interessanti. È un uso, per esempio, che faceva Borromini. In questo caso si differenzia perché, rispetto ad altre cappelle che sono realizzate con pietre o con marmi, qui è l'architettura stessa, il suo disegno, i suoi rapporti proporzionali che mostrano una raffinatezza progettuale piuttosto rara e quest'uso di materiali che simulano altri materiali è interessante anche per il restauro, nel senso che se si tinteggiasse di nuovo questo intonaco si rischierebbe di fare dei danni, di fare una riqualificazione degradante come purtroppo se ne vedono in giro. In questo caso, invece, è necessaria un'attenzione e una cura particolare per conservare questo intonaco antico e fare in modo che possa durare il più possibile dandogli un aspetto eliminando, per esempio, alcune risarciture incongrue che sono state fatte con Malte così, un po' qualsiasi. Anche questa è una cappella molto interessante, presenta questa forma piramide che è un simbolo molto usato per le architetture cimiteriali e li troviamo in diversi cimiteri sia italiani che esteri e torna anche qui, in particolare, qui vediamo questo annerimento delle superfici che è l'aspetto più visibile di quel degrado biologico di cui parlavo prima che mette in evidenza come appunto questi microorganismi hanno intaccato le superfici ma questi microorganismi vivono soltanto in ambienti poco inquinati quindi in questo caso il degrado ci è una spia del fatto che qui c'è un... che questo è un vero e proprio parco, un vero e proprio giardino storico. Anche in questo caso l'intervento dovrà essere molto sensibile perché una pulitura estrema danneggerebbe le superfici e anche in questo caso non avrebbe senso tornare all'antico splendore di cui molto spesso si sente parlare ma senza significato. Questa cappella tra l'altro è molto bella, richiama un po' la bicromia tipica delle architetture aquilane, questa pietra bianca e rosa è la cappella della famiglia Persichetti in cui è sepolto anche il celebre archeologo Nicolò. Lui ospitò Ulrichs, questo personaggio, questo importante letterato, scienziato noto a livello internazionale che fu in realtà venne qui, esulo e povero come lui stesso si definì e morì all'Aquila, ospite dell'amico Persichetti perché fu cacciato dalla comunità internazionale, dalla comunità scientifica di cui lui faceva parte, fu cacciato per questa sua dichiarazione che oggi invece viene celebrata universalmente. La sua tomba, come vedete, ha avuto una sostituzione recente di lapide proprio perché è molto frequentata. Non so come potesse essere prima ma forse sarebbe stata opportuna una conservazione della lapide precedente e un suo restauro. Purtroppo oggi molte lapidi sono illegibili e proprio per questo è necessaria un'azione conservativa che però non sia sostitutiva perché sostituire un manufatto storico in un contesto del genere è inopportuno. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori